Allora sicuramente loro sono diventati tutti democristiani, noi proviamo a scegliere. Ieri vi eravate guadagnati il consenso di metà del paese. Ma vi dillo, l'avete sentito o ci avete parlato? No, io non ci ho parlato, nessuno di noi ci ha parlato, però dobbiamo andare a votare ragazzi. Il nostro lavoro, dobbiamo lavorare, siamo qui per lavorare, dai. Siamo qui per lavorare, va bene? È chiaro?